Siamo ricordati che le donne partiremo un minuto dopo, le donne partiranno un minuto dopo. Quindi, tutti si preparati? 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1! 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, go! 5, 4, 3, 2, go! 6, 3, 2, 1, go! 6, 4, 3, 1, go! 6, 4, 3, 2, go! Grazie.